La vittoria conta fino ad un certo punto, però è chiaro che con Cosimo c'è l'amicizia, con tutti i ragazzi del Parma siamo tutti amici, quindi voglio dire che alla fine rimane l'amicizia, però è chiaro che loro vanno a casa e noi continuiamo ad andare avanti. Continuano a lottare, perché alla fine è bello anche per chi vince la soddisfazione della vittoria, però noi ci riproviamo il prossimo anno, non ci arrendiamo. Per come eravamo partiti noi, con una squadra che ci dovevamo salvare, quindi già siamo arrivati ad un buon punto, quindi siamo contenti di tutto quello che arriva in più ce lo prendiamo. Ora in semifinale il Torino, in campionato abbiamo vinto sia l'andata che il ritorno con il Torino, quindi voglio dire speriamo che vinciamo anche la semifinale. Non c'è due senza tre, sta semifinale. Noi facciamo gli auguri al Napoli, quindi il Parma ti ferà Napoli.